Numero 5, di puro opportunismo, Ana Maria Begic per la vittoria di Bologna. Numero 4, di qui non si passa, Samantha Ostarello. Numero 3, Linnea Harper si presenta così alla Tech Find Serie A1. Si butta dentro e realizza in corsa. Numero 2, Cinzia Arioli, di potenza, col canestro da cinema. Numero 1, benvenuti nel favoloso mondo di Dalì, Ray Ray col dietro la schiena. Nelle mani di Bishop che trova bene Dalì, bello il passaggio dentro la schiena per Elisabetta Tassinari che dall'angolo segna la trip.